L'Agenzia Soluzione Musica, 8 marzo, Festa della Donna, al ristorante La Sayonara. Interverranno i seguenti artisti. Alessio Gianluca Natale Galletta Di me ti puoi fidare, lì ma tu già manco un drago Raffaele Nenzi Piano Bar, Lello e Savio In più, ospiti a sorpresa Piano Bar, Lello e Savio Piano Bar, Lello e Savio